salve ragazzi ben tornati in un nuovo video di jump force questo è il secondo video ora dovremmo scegliere dovremmo scegliere tra la tra le tre basi tra le tre sezioni in cui è suddivisa la basi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sai già a quale team vorresti unirti? Sì. Ah, e qual era? Ah, bella ora adesso. No, 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 fammi andare dietro. Dai, ti prego, non me lo ricordo. No. Gamma, gamma. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ma guarda tu tanto lo si farà sempre però lui non mi attacca per bere da il mondo giusto così no 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 ma però non ho fatto tanto danno se si vede che non ho preso per il spettacolo sta trasformazione tanto la voglio di trans oi oi a a a a a Quindi, per la mia squadra, con un po' di fronte. Se non è vero, se non è vero, se non è vero, se non è vero. Ma se non è vero, se non è vero, se non è vero. E, se non è vero, se non è vero. Ma se non è vero, se non è vero, se non è vero, se non è vero, se non è vero. Hai appreso una nuova tecnica in questo combattimento. Hai osservato le tecniche di alleati avversari e le hai sperimentate in prima persona. Il cubo Umbros dentro di te ha risuonato grazie a questa esperienza, donandoti un nuovo potere. Si. 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 purtroppo il resto del video dove salvavamo vegeta ovviamente è andato a puttane scusate per i vari inconvenienti che ci sono però spero che il video vi sia piaciuto anche se è stata la fine del tutorial praticamente e niente al prossimo video grazie